E tutto questo perché? 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 Perché dobbiamo fare un discorso importante. E ci vuole un ristorante importante, no? Un discorso... Ma guarda l'intorno, non ti piace? Sì, un discorso importante. Eh certo! Che è successo? Assaggio sto vino intanto, senti che buono. Alla salute, al nostro futuro. È un vino da gran signore questo qua. Allora, c'è presente l'Alaska? L'Alaska, il locale di Sandro. Ah sì sì, l'Alaska. Il famoso Alaska. Sì sì sì, certo. Beh, Nati, tu non puoi sapere che posto è. È un posto assurdo. Che a Milano un posto così non esiste. Ma è una miniera d'oro. Insomma, io mi sono trovato. E insomma, sì, sono entrato in società. Cosa? Aspetta. Sono entrato in società, Nadine. Capisci? Ma come hai fatto? Sono in società con l'Alaska. Ho il 25% delle quote e gli ho dato solo 30.000 euro. Che poi, se ci rifletti, è una cazzata rispetto a quello che vale realmente, no? Ho preso 30.000 euro dai nostri soldi, quelli che abbiamo da parte. E niente, sono entrato in questa cosa qua. Ma stai scherzando? No, Nadine, non scherzo. Ho dovuto sfruttare il momento. Mi sono inserito al momento giusto e sono riuscito a strappargli questa cosa qua. Nadine, io i soldi te li ridò. Te li riporto tutti fino all'ultimo. Che è stato un momento, è stata una cosa improvvisa. Non potevo fare diversamente. Tu hai rubato i miei soldi. Ma che cosa hai rubato i soldi? Che soldi ti ha rubato? Io li ho messi i soldi. Ho preso in prestito 30.000 euro. Ti ho detto che nel giro di un, due o tre settimane te li ridò tutti. Dove cazzo fai? Stai fermo qui, ti prego. Mi dobbiamo. Perché fai così? Mi dai fiducia per questa cosa? Mi dai fiducia per questa cazzo di cosa, ti prego. Non mi fido più di te. Facciamo finta che non è successo niente. Facciamo finta che non è successo niente. Godiamoci la nostra vita di merda.